Qui a Francoforte presentiamo la nuova Lamborghini Huracan LP 610-4 Spyder, una macchina eccezionale, una vera super sportiva e un perfetto connubio tra una high performance car e una macchina lifestyle. La Aventador super veloce Roadster, l'abbiamo presentata a Pebble Beach per cui a agosto di quest'anno è una macchina a tiratura limitata, ne faremo solo 500 e sono tutte vendute, è la quarta della famiglia, abbiamo lanciato nel 2011 la Coupé, nel 2013 la Roadster, a marzo di quest'anno la super veloce Coupé e adesso a Pebble Beach in agosto la Roadster. Intanto in termini di vendite, inizio dalla fine, prevediamo di battere l'anno record dell'anno scorso con 2530 unità vendute, è una cosa eccezionale per noi anche se non è che andiamo a rincorrere dei record, ma la domanda è molto alta e dobbiamo soddisfarla. Gli eventi più importanti di quest'anno, del 2015, senza altro sono stati l'annuncio del terzo modello dell'SUB ma anche il lancio di nuovi prodotti come lo stato a Ginevra, la Aventador super veloce Coupé o a Pebble Beach della Ventador super veloce Roadster o non per ultimo qui al Salone di Francoforte della presentazione in anteprima mondiale della Huracan Spider.